Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buongiorno qui con il mio nuovo gruppo PSAPI. Allora, vi voglio presentare gli altri ragazzi. Alle tastieri, dalla Francia, on the keyboards. Alabasso d'Algales e Italia. Alabasso d'Alabasso d'Alabasso d'Alabasso. Alabasso d'Alabasso 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 d'Alabasso. Alabasso d'Alabasso. Alabasso d'Alabasso. Alabasso d'Alabasso 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 d Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.